Tecnolaser Tecnolaser è un'azienda attiva nel settore del contocerzismo, lavorazione e lamiera e ci occupiamo di produzioni di parte disegno per molti clienti in svariati settori. Spesso ci troviamo ad andare a realizzare cabinature di macchine dove sono presenti pannelli raggiati di varie forme e con varie dimensioni. Il vecchio processo produttivo che già attuavamo in azienda prevedeva il taglio laser di questi pannelli, la piegatura in pannellatrice che dà la versatilità per realizzare diverse dimensioni del raggio interno di piega e poi la saldatura che era il processo che ci serviva per andare a chiudere l'angolo del pannello e a ripristinare la finitura estetica. La nostra criticità era che questa lavorazione occupava molto tempo da parte dell'operatore, andando quindi anche a saturare capacità produttiva, però richiedeva anche una certa manualità da parte dell'operatore perché le lavorazioni di saldatura in continuo e di carteggiatura richiedono certe competenze e quindi avevamo anche la criticità che non tutti gli operatori a nostra disposizione potevano eseguire questo lavoro in maniera precisa e soddisfacente per il cliente. Chiaramente tutta questa attività manuale comporta anche un alto costo per il prodotto finito che noi andiamo a vendere al cliente. Abbiamo quindi pensato di rivolgersi a Salvagnini, il nostro storico partner tecnologico che offre il servizio Ratings per provare a riprogettare il pannello e quindi sfruttando le tecnologie a nostra disposizione e le potenzialità che offre la pannellatrice P4 andare a trovare una soluzione che aiutasse a ridurre i tempi di produzione e quindi il costo del prodotto e il nostro impegno nel reparto di saldatura. Abbiamo quindi modificato dal punto di vista del taglio laser la sezione di taglio quindi mentre prima si aveva uno spigolo secco che veniva poi riportato in piegatura nella piega laterale e andava a generare un angolo di 90 gradi siamo riusciti a riportare un piccolo lembo di lamiera che viene pannellato durante la piega raggiata e che quindi costituisce un sopporto visibile che da continuità a raggio di piega mentre dall'altra parte l'operazione di saldatura è diventata molto più semplice consentendo una saldatura a punti non richiedendo più la carteggiatura e credendo anche meno skill da parte dell'operatore. Questa nuova soluzione ci ha permesso quindi di andare ad abbattere i tempi di saldatura siamo riusciti ad ottenere un saving nel processo del 40 per cento che nella media delle nostre produzioni va a costituire un 15 per cento sul posto del pannello finito. Oltretutto adesso abbiamo il vantaggio che non sono più necessarie particolari abilità manuali da parte dell'operatore nella rifinitura del pannello nella molatura e nella ricostruzione del raggio di piega quindi tutti i nostri saldatori sono ora in grado di lavorare i pannelli e eseguire le produzioni richieste. Grazie a tutti!